Benvenuti nel mio canale YouTube e nel podcast L'Anestesista. In questa puntata parlo degli effetti cardiovascolari, respiratori, oculari e cerebrali più frequenti della chirurgia addominale, laparoscopica e robotica. Effetti con cui l'anestesista della sala di chirurgia robotica ha sempre a che fare. Iniziando dagli effetti cardiovascolari di un'operazione chirurgica addominale in laparoscopia e robotica, in genere si osserva che, in maniera variabile e dinamica, le resistenze vascolari sistemiche e la pressione arteriosa media aumentano per effetto dell'ipercapnia, della risposta neuroendocrina con aumento delle catecolamine, della vasopressina e del cortisolo e di fattori meccanici come la compressione diretta della orta. Le pressioni di riempimento cardiaco aumentano per effetto dell'aumento della pressione intratoracica secondaria all'opneumoperitoneo, dell'aumento dell'output simpatico dovuto alla risposta neuroendocrina e all'ipercapnia. I volumi di riempimento cardiaco possono aumentare o rimanere invariati per effetto dell'interazione tra l'aumento del volume intravascolare, derivante dalla compressione del fegato e della milza, della riduzione del precarico e del ritorno venoso e del posizionamento dello stato persistente del paziente. Anche l'indice cardiaco è variabile, può aumentare o rimanere invariato per effetto dell'interazione tra l'aumento del postcarico, la diminuzione del ritorno venoso, l'aumento del volume intravascolare, il posizionamento e lo stato persistente del paziente. Questi effetti sono generalmente ben tollerati dai pazienti sani, tuttavia disfunzioni cardiache intraoperatorie significative possono verificarsi nei pazienti più anziani e in quelli con malattie cardiopolmonari come la broncopneumopatia cronica ostruttiva, l'insufficienza cardiaca con gestizia, l'ipertensione polmonare e le cardiopatie valvolari. Rispetto ai pazienti sani, quelli con malattie cardiopolmonari possono richiedere un maggior numero di interventi farmacologici e un monitoraggio più intensivo per rispondere a questi cambiamenti. Per questo l'anestesista effettua una valutazione cardiaca preoperatoria per quantificare il rischio cardiologico. L'identificazione di un aumento del rischio fornisce al paziente, all'anestesista e al chirurgo informazioni che aiutano a comprendere meglio il rapporto rischio-beneficio della procedura e può portare a interventi che riducono il rischio. Passando agli effetti respiratori di un'operazione chirurgica addominale in laparoscopia robotica, in genere si osserva che, sempre in maniera variabile e dinamica, la capacità residua funzionale diminuisce. Per effetto dello spostamento cefalico del diaframma, dell'aumento della pressione intradominale e della posizione di Trendeleburg, la compliance polmonare diminuisce. Per effetto dell'aumento della pressione pleurica, dell'aumento della pressione delle vie aeree, dello spostamento cefalico del diaframma e per aumento della pressione intradominale. La pressione parziale arteriosa di anidride carbonica varia a seconda della ventilazione, ma tende ad aumentare a causa dell'assorbimento di anidride carbonica del peritoneo. Anche la pressione parziale arteriosa di ossigeno varia a seconda della ventilazione e per effetto dell'ateletasia, della vasocostrizione polmonare ipossica e dello stato polmonare preoperatorio. La trachea può poi spostarsi in posizione piacefalica, con possibile migrazione del tubo endotracheale dalla trachea al bronco principale, per effetto dell'aumento della pressione intradominale e della posizione di Trendeleburg. Di nuovo, rispetto ai pazienti sani, quelli con malattie polmonari possono richiedere un maggior numero di interventi sulla ventilazione e un monitoraggio più intenso per rispondere a questi cambiamenti. Un altro tipico aspetto della chirurgia laparoscopica robotica sull'addome è la posizione di Trendeleburg. La posizione di Trendeleburg aumenta la pressione intraoculare. Aumenti della pressione intraoculare dell'entità riscontrata durante le operazioni laparoscopiche robotiche in posizione di Trendeleburg richiedono che l'anestesista indaghi le patologie oculari dei pazienti, per identificare i pazienti a rischio di perdita della vista postoperatoria e di altre complicanze oculari. L'aumento della pressione intraoculare può essere più dannoso nei pazienti più anziani o in quelli predisposti a sviluppare il glaucoma rispetto ai pazienti più giovani e sani. Infine, l'aumento delle pressioni intradominali e intratoraciche, l'ipercapnia e la posizione di Trendeleburg possono aumentare il flusso sanguigno-cerebrale e la pressione intracranica. In pazienti sani, in cui lo pneumoperitoneo e la posizione di Trendeleburg vengono mantenuti a lungo, l'ossigenazione cerebrale e la perfusione cerebrale rimangono entro i limiti di sicurezza. Nei pazienti con una massa intracranica o con disturbi cerebrovascolari significativi, come aterosclerosi carotidea e aneurisma cerebrale, l'aumento della pressione intracranica può avere invece conseguenze significative. L'identificazione di un aumento del rischio oculare e cerebrale fornisce al paziente, all'anestesista e al chirurgo informazioni che aiutano a comprendere meglio il rapporto rischio-beneficio della procedura e può portare a interventi che riducono il rischio. Rispetto ai pazienti sani, i pazienti con malattie oculari e cerebrali possono richiedere un maggior numero di interventi farmacologici e un monitoraggio più intensivo. Questa breve descrizione degli effetti fisiopatologici della chirurgia laparoscopica robotica è un argomento che non si esaurisce certo così, ma spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Se fosse così vi invito a mettere like e iscrivervi al mio canale YouTube e al podcast L'Anestesista. I link sono qui in alto. A presto!